il vitello d'oro e il povero Mosè sul povero Mosè c'è la Bibbia e soprattutto sul povero Mosè c'è questa opera di Sigmund Freud l'uomo Mosè è la religione monoteistica questa opera è il canto del cigno di Sigmund Freud forse è una delle opere migliori per me è l'opera migliore la scritta negli ultimi anni della vita ha fatto a tempo a concluderla e poi è morto a Londra in tarda età beh ma chi è questa faccenda il vitello d'oro e il povero Mosè dunque Mosè abbandona l'Egitto un preda ad una rivoluzione abbandona l'Egitto assieme ai Leviti Mosè era un Egizio era un Egizio, i Leviti erano degli Egizi i Leviti erano sacerdoti dell'unico Dio del primo Dio monoteistico di Akhenaton a Menofi IV Mosè assieme agli Eviti la tasta sacerdotale del Dio Sole raggiunge il delta del Nilo e poi assieme agli ebrei che stavano il delta del Nilo intraprendono il cammino ad oriente per andare in quella che era chiamata la terra promessa la terra di Canaan Palestina Israele dove poi dove ci sarà poi Gerusalemme bene è la traversata del deserto ad un certo punto della traversata del deserto e Mosè con i suoi Leviti e il popolo ebraico si fermano alle alle pendici del monte Sinai in quanto Mosè dice che deve salire sul monte Sinai per dialogare con il Dio Yahweh sale sul monte Sinai vi resta parecchio tempo e poi sul monte Sinai riceve da Yahweh le tavole le tavole della legge i dieci comandamenti scolpiti nel duro marmo e poi scende con le tavole della legge scende a valle sceso a valle trova gli ebrei i quali avevano costruito un vitello d'oro e stavano facendo delle orge delle orge terribili perché si erano stancati stancati di stare appresso a Mosè Mosè era un pulitano Mosè i suoi leviti erano dei pulitani e con Mosè e con i suoi leviti che nasce la nuova morale patriarcale e Mosè vede che stanno facendo un'orgia e che i leviti nulla avevano potuto fare perché i leviti erano pochi ma gli ebrei uomini e donne erano tanti e allora allora in oridito Mosè prende le tavole della legge le scaglia per terra e le manda in mille pezzi poi raggiunge il popolo il popolo viene punito il vitello d'oro viene distrutto e poi dopo Mosè torna di nuovo su Montesina per farsi dare altre tavole della legge da Yahweh io mi sono sempre chiesto ma che cosa ha visto cosa ha visto ha visto un'orgia e vabbè ma com'è che è rimasto così scandalizzato così scandalizzato al punto di 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 scagliare per terra le tavole le marmore tavole della legge i dieci comandamenti distruggerli cosa poi ci fu una dura cosa aveva visto e aveva visto l'orgia sì ma che tipo di orgia beh aveva visto di certo che nel corso dell'orgia le donne le donne le belle donne ebrei e potevano accontentare contemporaneamente magari cinque uomini cinque uomini con le tre cavità naturali e con le due mani una donna poteva bastare a cinque uomini ora essendo nato allora il patriarcado e gli uomini tendevano ad essere loro ad avere tante donne perché con la scoperta della funzione dello sperma gli uomini sapevano che avendo tante donne potevano avere tanti figli quindi non si poteva accettare il contrario che fosse una donna sola a stare con cinque uomini che un uomo potenzialmente in 365 giorni se ha se ha 365 donne può fare 365 figli ma una donna in 365 giorni i figli ne può fare uno solo allora restò impressionato di certo Mosè quando vide l'orgia quando vide l'orgia dove ciascuna donna poteva contemporaneamente soddisfare cinque uomini a una donna è concesso di fare ciò ma ciò andava contro le nuove regole che Mosè intendeva impartire dal popolo ebraico perché l'arem nasce col patriarcato l'arem nasce col patriarcato perché avendo molte donne l'uomo può fare molti figli può assicurare al suo sangue una bella discendenza ecco cari amici quello che mi è venuto in mente l'uomo Mosè l'uomo Mosè deve aver visto che la donna può soddisfare contemporaneamente cinque uomini ma non può verificarsi il contrario un uomo contemporaneamente non può soddisfare cinque donne capito e questo ti lascia con l'amaro in bocca capito cari amici comunque per ogni ulteriore chiarimento esiste sempre questa mia opera che ormai è un'opera mondiale cari amici è perché si trova sul grande web store iTunes della Apple in lingua inglese ma c'è anche la versione in lingua italiana su Amazon ok cari amici grazie e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni grazie a tutti